Ciao, io sono Yuko e oggi ho incontrato un cervo! Tutto è iniziato quando i miei umani mi hanno portato qui a passeggiare nel bosco e abbiamo scoperto una cosa assurda! Ci hanno detto che c'è un branco di cervi, quindi vedremo un po' come reagirà Yuko quando li vedrà per la sua primissima volta! Cervi? E che cosa sono? All'inizio non ne avevo idea, ma il mio fiuto mi diceva che eravamo molto vicini a loro. Ehm, umana, non credo che siano questi, a me sembra una statua. Eccoli! Non ci credo! Siamo arrivati! Allora sono quelli i cervi di cui parlavano! Avviciniamoci piano piano se non scappano! Beh, sono un po' strani come animali. E poi cos'hanno sulla testa? E comunque non è giusto, io vorrei andare da lui! Uffa, come faccio? Grazie, umano! Adesso va molto meglio. Come si chiama un cervo? Non è come un cane. Sta funzionando. Tieni! Bravissima! Certo che sono proprio golosi, infatti la mia umana ha iniziato a dare da mangiare a tutti e uno ci ha perfino fatto l'occhiolino. E poi si sono avvicinati a lei per farsi coccolare. Uff, sono geloso. Ecco, grazie.